buongiorno esiste a osimo una casa editrice che si chiama arcipelago itaca e si comporta in un modo curioso pubblica dei pdf li manda gli addetti ai lavori chiedendo loro se poi vogliono ricevere anche una copia cartacea a seconda che il libro sia loro piaciuto o meno a questi libri mi è giunto per l'appunto adriana tasin libro di persona a me mente ignota che è nata a tione di trento nel 59 si è laureata in scienze naturali all'università di bologna e fino al 2021 insegnato discipline scientifiche in vala rendena madonna di campiglio dove tuttora vive questo è forse il suo secondo libro la sua raccolta poetica e del 2020 il gesto è compiuto con punto a capo editrice ed è un libro molto interessante che si intitola per l'appunto fatti reali immaginari e il titolo si spiega come dichiarazione di intento poetico i fatti sono reali ma lo sguardo al loro rivolto è immediato dall'immaginazione sono episodi storici che gettano radici in vari episodi drammatici della della storia i letti come se l'autrice fosse lì in qualche caso era veramente lì come nella poesia che vi vado a leggere e si intitola sabato 2 agosto 1980 di seguito vale la pena leggere anche la nota in fondo ognuna di queste poesie accompagnate da una lunga nota 2 agosto 1980 ore 10 25 strage alla stazione di bologna nel 1980 frequento l'università bologna e ogni sabato torno a casa con il treno alle ore 10 e 30 la strage di bologna avviene in agosto di sabato alle 10 e 25 quando le lezioni scolastiche sono state da poco sospese il resto è storia di tutti ma poi aggiunge quello stesso giorno di ritorno dalle vacanze con gli amici decidiamo di fermarci a bologna vigili bloccano la nostra macchina in corrispondenza della stazione e ci fanno deviare perché dicono è scoppiata una caldaia la poesia è questa sabato 2 agosto 1980 2 agosto 1980 bologna strage alla stazione centrale io ero a bologna quell'anno quel giorno quell'ora in via indipendenza tornavo dal mare loro aspettavano di partire in sala d'attesa o sui binari appena fuori dalla stazione o appena dentro un piede su un piede giù ed un tratto ho visto il fumo salire l'ho sentito il dolore come fosse un sabato d'inverno e io lì come sempre tornare verso casa salutare dal vagone a trattenere mani a mandare baci a dire ritorno e lì che distesi i corpi straziati sono così morti così morti che restano restano non possono andare eppure hanno ancora impressi negli occhi l'ultimo viso veduto il biglietto di un viaggio a piccola pensione in riva al mare un sentiero erto di montagna e casa 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 questa petizione di casa quasi il ritmo di un treno che non partirà si chiude questa bella poesia di adriana tasin fatti reali immaginari arcipelago idaca vi ringrazio e vi saluto un appuntamento alla prossima puntata ciao